ciao a tutti oggi prepareremo la cheesecake al pistacchio ricotta il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa più 8 ore di riposo in frigo ingredienti sono per la base biscotti secchi e burro molto morbido per la crema al pistacchio ricotta di pecora mascarpone crema al pistacchio zucchero a velo e per decorare granella di pistacchi diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti e li facciamo dritare per 30 secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il burro che dovrà essere molto morbido e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4 trasferire il composto in una tortiera del diametro di 22 centimetri con apertura cerniera rivestita con carta da forno e compattiamo bene sul fondo trasferiamo la tortiera in frigo per almeno 20 minuti nel frattempo prepareremo la crema di ricotta e pistacchi mettere nel boccale il mascarpone la ricotta la crema di pistacchi lo zucchero a velo e facciamo amalgamare per due minuti a velocità 3 a questo punto azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 4 la crema è pronta trasferire sulla base di biscotto posizionarla in frigo per almeno otto ore trascorsi il tempo abbiamo ripreso la cheesecake dal frigo sformare e decorare con granella di pistacchi cheesecake, pistacchi e ricotta grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti